Anche la tengo io, eh. Eh, su un attimo, su un attimo problemi connettivi, ma noi due ci conosciamo. Vigilessa, piano di sotto. Di sotto. Ma anche lei è in questo stato? Che ha fatto? No, niente, stavo spostando la macchina. No, ma lei è un così bell'uomo, che fa i telegiornali. Tutto serio, e oggi poi... Ah, hai visto i telegiornali? Sì, si mette qua che l'accompagno a casa. Me ne occupo io. Vado. A posto? Sì, lo conosco. Me ne posso andare? Ciao. Che facciamo? Il lampeggiante è finto? C'è la macchina? Ti fa il suo balletto? Eh? Sì, ridi. Ora mi passo la sera, davanti, va. Patente e libretto.